Il comune e tutto chi ha costruito queste case sopra una cassa di espansione, perché dicono che questa è una cassa di espansione, è una vera e propria vergogna, speculano sulle nostre coscienze. È la denuncia di uno degli abitanti del nuovo blocco di casa, Canone Calmerato, sorto nel 2009 a Quaracchi, in via Dolorenzo Milani, estrema periferia fiorentina. Gli abitanti lamentano una situazione di estremo disagio e denunciano case giardinetti antistanti sono stati costruiti in un'area malsana. Le case costruite con l'housing sociale, quindi con dei privati, con finanziamenti pubblici che dovrebbero fornire alloggi, affitto calmerato, sono costruite sopra una cassa di espansione con rischi di stabilità, allagamenti, il giardino che vediamo qui alla mia sinistra viene allagato appena piove con oltre un metro d'acqua, pericolo per i bambini che potrebbero caderci e morire, zanzare, infiltrazioni, muffa nelle case che hanno le pareti nere e ovviamente anche pericoli di stabilità perché ci sono crepe e i parciapiedi che si stanno già rompendo. Per abitare qua, con un affitto cosiddetto calmerato, voi quanto pagate? Io con 45 metri quadri pago quasi 500 euro, 4,88, mi dica lei.